Ehi, ciao a tutti ragazzi, oggi voglio fare con voi una chiacchiera riguardo al prossimo Dragon Age The Veilgard che uscirà a brevissimo, se non sbaglio dovrebbe uscire il 31 di ottobre e le recensioni dovrebbero iniziare ad uscire domani nella giornata del 28 di ottobre. Questo anche perché in vista della mia partenza per il Luca Comics se tutto va bene non sarò presente durante i giorni del lancio ma volevo appunto parlare con voi di questo gioco soprattutto delle ultimissime voci che si stanno inseguendo riguardo i recensori, i codici di gioco e l'identità stessa ecco scusate di Dragon Age The Veilgard, quindi un titolo super chiacchierato, ne abbiamo discusso ampiamente qui sul canale anche per alcune cose controverse relative all'identità e tutto quello che riguarda un pochino la parte più gossipara però ecco in merito proprio al gioco vorrei soffermarmi su quelle che sono le ultime voci di corridoio e sull'attendibilità di quelle che potrebbero essere le recensioni e le chiacchiere che si aggireranno intorno al gioco intanto abbiamo comunque una situazione per cui Be Aware o in generale EA perché si tratta comunque del distributore alla fine a prendere queste decisioni non ha inviato le chiavi di gioco a quelli che sono magari content creator recensori un po' più critici che vogliono vedere il titolo nella sua intera identità ma attenzione c'è un grande ma alcune chiavi non sono nemmeno state inviate a coloro che invece sono più neutrali o comunque sono più assettici dal punto di vista delle voci ok quindi che non hanno criticato il gioco a prescindere che non si sono esposti sia dal punto di vista passatemi il termine politico che dal punto di vista di quelle che sono le ipotesi di gameplay quindi in realtà non è che c'è un complotto a quanto pare le chiavi non sono state inviate sia ai soliti sospetti sia a coloro che invece di norma sono diciamo più tranquilli come content creator tuttavia sono state inviate invece alle riviste di settore qua si parla proprio del cosiddetto review journalism quindi ovviamente le chiavi sono già in possesso di Paul Tassi sono già in possesso di GN sono già in possesso di Kotaku e infatti preparatevi perché sono certo probabilmente che alcune delle recensioni che avremo titoleranno già questo non è un gioco per i fantossici oppure Dragon Age The Veilgard non è per te e così via quindi queste recensioni io già sconsiglio a prescindere di leggerle perché probabilmente saranno le recensioni che fanno parte di una cerchia dei cosiddetti passatemi anche qui un altro termine prezzolati ok? bisogna andarci un pochino più con i piedi di piombo ma perché dico tutto questo? perché il gioco di base è all'attivo con delle controversie non da poco sia che coinvolgono i fan ma soprattutto gli sviluppatori stessi insomma il gioco già di per sé ha avuto una serie di polemiche per via del trailer di lancio che se vi ricordate non è stato assolutamente ben ricepito e hanno dovuto correggere il tiro più e più volte facendo anche dei long play per cercare di far capire al pubblico che in tutti gli effetti il gioco non fosse così brutto come ci si aspettava dal primo trailer quindi già un primo passo molto molto sbagliato le reazioni sono state ovviamente contrastanti chi ha dichiarato che Bioware è morta altri che Bioware è tornata dopo alcune anteprime che hanno diciamo migliorato la pessima posizione iniziale si prevede comunque che il gioco sarà ovviamente super controverso indipendentemente dalla sua qualità quindi questo ovviamente è la base proprio di Dragon Age in vista anche di tutta l'ultima ondata degli ultimi anni di sensibilità agenzie di consulenza, sensitivity reader e robe del genere comunque in base questa situazione ci porta anche a pensare perché dovremmo acquistare il gioco lo dico perché le due versioni attualmente disponibili sono la versione standard da 80 euro e la versione deluxe da 100 euro dalla versione standard avremo ovviamente il gioco e l'armatura sangue di drago che è semplicemente una skin nella versione deluxe avremo queste due cose appena dette più 6 elementi estetici per l'arma di Rook un set di armatura guerriero per Rook Rook è il protagonista saremo noi un altro set di armatura classe maga ladra e 7 armi per i compagni e 7 set armatura per i compagni quindi per 100 euro quindi praticamente 21 in più vi portate a casa solo delle skin che poi ci può anche stare per carità se siete super fan quindi di base però abbiamo a che fare con il nuovo di quello che è Bioware Bioware che negli anni abbiamo visto essere cambiata davvero davvero tanto parliamo di una casa di sviluppo in continua evoluzione altri diranno in involuzione ma che ci vogliamo fare alla fine Bioware ha avuto veramente un enorme enorme turnover di nomi basti pensare nel periodo a cavallo tra Mass Effect Andromeda e Anthem quante persone sono cambiate all'interno di Bioware in sé Dragon Age proprio come serie è anch'essa in continua evoluzione è una serie che è cambiata tanto negli anni a livello di identità e di proposta di gioco se pensate da Origins fino anche ad Inquisition bene o male il gioco è cambiato è cambiato l'approccio, è cambiato il gameplay le cose che potevi fare all'interno la gestione stessa della mappa Dragon Age Inquisition è anche piena di quegli orpelli da gioco moderno dell'epoca raccogli 7 teschi guarda 18 cannocchiali cerca il venditore di spezie che c'è in giro ma lo troverai sempre insomma abbiamo capito ecco le aspettative su questo gioco sono anche legate al fatto che nei gameplay mostrati, nelle anteprime l'approccio proprio al gioco diventa quasi più arcade quasi come se fosse anche addirittura reminescente di giochi più action ok, quindi passando all'idea di quella che è l'identità stessa dello studio quindi dell'eredità che lo studio ha ricordiamo che comunque Bioware è uno studio che ha fatto la storia del genere da Baldur's Gate, Knights of the Old Republic Jade Empire, Dragon Age e Mass Effect poi ovviamente Anthem che oggi giorno la gente riscopre per quello che era il potenziale della bontà e dello stile di gameplay che io mi trovo anche d'accordo lo stile di volo ad esempio alcune cose erano molto molto belle comunque non è anche da escludere non è da dimenticare il declino che hanno avuto i titoli in questione ma già da Mass Effect 3 per quanto io ami con tutto me stesso la saga di Mass Effect sia un fan sfegatato il finale di Mass Effect 3 lasciava parecchio a desiderare un finale simile con tre colori diversi poi un quarto colore ok, aggiunto e delle sistemazioni per me ecco, il gioco poteva finire poco prima della scena dell'ascensore ok? per chi ha giocato Mass Effect 3 comunque parliamo di una casa che poi ha fatto Mass Effect Andromeda e Anthem Mass Effect Andromeda sappiamo essere stato letteralmente un disastro sia dal punto di vista di quello che era l'estetica la proposta anche della comunicazione ok? perché nei gameplay ancora ancora soprattutto nei combattimenti a dire il vero era anche divertente era molto ammodernato lo stile peccato poi per tutto il resto una trama anche che era era stanca una trama non aveva nulla che potesse come dire anche solo imitare la potenza che ci aveva regalato Mass Effect nella trilogia iniziale dopodiché Anthem che non è stato altro che una prova di forza nel mostrare che erano capaci di dare nuova vita alle animazioni facciali anche troppo perché veramente le animazioni facciali di Anthem erano nel lato opposto se in Mass Effect Andromeda erano dei mostri di cera in Anthem erano Jim Carrey praticamente ogni personaggio era Jim Carrey quindi erano un po' un po' troppo ecco Anthem un altro di quei giochi nati probabilmente nemmeno gli sviluppatori sapevano cosa stessero sviluppando fino al trailer e questa cosa purtroppo ahimè è vera perché il trailer che venne mostrato alle 3 fu il trailer che fece degli sviluppatori una cosa tipo ah stiamo lavorando su questo quindi ecco un pochino a che punto siamo ripeto comunque Bioware ha avuto un enorme turnover di personale e molti membri chiave storici e senior hanno mollato completamente la casa infatti molti sono finiti adesso su un nuovo progetto che è diciamo un po' una sorta di il nuovo Mass Effect di cui adesso non ricordo il nome qualcosa come Exo non è Exoborn però era qualcosa come Exo qualcosa non ricordo ho visto anche il trailer tempo fa sembra essere molto promettente in caso scrivetemelo qua nei commenti ma ecco se lo sapete sappiamo di cosa stiamo parlando il confronto che viene da pensare che molti utenti anche diciamo cercano di imitare è quello di Bioware contro un'altra casa che si occupa tanto di RPG che è Bethesda ma al contrario di Bioware Bethesda è rimasta sempre la stessa e lo dimostrano anche i giochi poi che possano piacere o meno inutile dire che Bethesda comunque per quanto sia piena di difetti ricca di monotonie e cliché ahimè oggigiorno sia Fallout che Skyrim così come la serie di Elder Scroll sappiamo benissimo essere delle serie amate conosciute in tutto il mondo immortali e che per quanto sia critica l'idea di dire ok ma Bethesda usa sempre lo stesso motore fa sempre le stesse cose ecco sfido io a trovare una persona che non conosca o non giochi i titoli di Bethesda ora Starfield a parte che ovviamente è un titolo che ha osato secondo me in una direzione un po' sbagliata che non ha potuto svecchiare soprattutto le criticità di un motore di gioco come quello del Creation Engine che ha utilizzato la Bethesda per tutti i suoi titoli insomma siamo comunque tutti passivamente in attesa di Elder Scrolls 6 e qui anche gli hater dovranno concordare perché sappiamo benissimo che è così ecco quindi che comunque Bioware ha dovuto cambiare così tanto a tal punto da non avere quasi più la stessa identità il paragone con la questione della barca che ho visto fare anche un altro youtuber è vero tu puoi avere una barca ma se cambi tutti i pezzi della barca è sempre la stessa barca o semplicemente identifichi la barca come la stessa solo perché è tua anche se tu gli hai cambiato ogni pezzo ogni parte del motore il volante tutto 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 quindi ecco è un po' questo paragone qua non lo so le implicazioni comunque che ci sono in base per questa questione quella di The Veilgar fanno pensare anche a quello che è il futuro ricordiamo che attualmente hanno detto di avere in sviluppo anche Mass Effect 5 ok quindi Mass Effect 5 è il titolo che verrà dopo The Veilgar e attenzione attenzione perché a Mass Effect 5 sta lavorando tutto il team se non la stragrande maggioranza del team che ha lavorato su The Veilgar quindi è giusto dire che Mass Effect 5 può essere tranquillamente proiettato nel futuro come idea in base a quello che sarà The Veilgar perché se il team è lo stesso insomma a meno che non abbiano un'iniezione tipo Matrix tipo New Matrix di conoscenza diventino istantaneamente tutti dei senior se noi vediamo quello che c'è in The Veilgar probabilmente lo vedremo Mass Effect 5 sia a livello di stile di firma di conduzione di narrazione di modo di porre le cose e poi quale miglior luogo se non il futuro ipotetico per poter fare un sacco di propaganda politica personaggi non binary cambiare storie e background è incredibile quindi è in modo migliore ok comunque la qualità appunto di The Veilgar influenzerà tanto le aspettative per Mass Effect 5 e il fatto che The Veilgar possa essere un gioco polarizzante ormai è più che consolidato quindi ci sarà chi lo odierà e chi lo amerà chi ne parlerà chi ci farà un sacco di soldi sopra con i content ovviamente come stiamo tentando di fare anche qui sul canale dai diciamolo diciamolo comunque rimane il fatto che Dragon Age ha una eredità molto importante nel resto è stato concepito come una sorta di successore spirituale di Baldur's Gate 2 che ha creato un mondo completamente nuovo regole proprie però ecco ha cercato di dare una sorta di giustizia e ce l'ha fatta perché la saga di Dragon Age partendo appunto da quello più amato Dragon Age Origins insomma ha lasciato il segno assolutamente è comunque vero da dire che ogni titolo della serie è diverso in termini di gameplay e stile infatti da Origins passiamo a Dragon Age 2 che è stato anche un record se non sbaglio è stato sviluppato in 18 mesi vabbè da qui si vedono anche tutte diciamo le criticità i dungeon tutti uguali insomma sappiamo Dragon Age 2 e comunque anche Inquisition ha cambiato ulteriormente l'approccio al gioco cercando di fare queste aree open e mentre appunto The Veilgard si avvicina di più a quella che dovrebbe essere un'idea più story driven con un stile di gioco addirittura che per molti dicono essersi avvicinato a God of War quindi staremo a vedere provandolo spero ecco gli elementi che sono comuni ovviamente sono l'universo condiviso lo stile di scrittura speriamo l'umorismo e le scelte che influenzano la trama ora quale trama quanto questa trama potrà essere influenzata dal passato si dice da coloro che hanno provato che tutte le cose fatte in passato non hanno posto qui quindi staremo a vedere anche questo le impressioni sul titolo visto anche quello che c'è stato in giro visto coloro che hanno provato l'anteprima i fan e i non fan è che ci sono sentimenti davvero contrastanti ok su quella che è l'identità stessa del gioco non si sa dove voglia andare a parare la struttura del gioco in sé avrà un'area hub simile alla normandy di mass effect i compagni potranno essere consultati te ne potrai portare se non sbaglio due dietro e le missioni avranno delle aree semi aperte in modo tale di evitare la dispersività di cui parlavamo prima c'è un sistema di loot e personalizzazione simile a quello di god of war del 2018 il combattimento sarà action con possibilità di pausa tattica ampie opzioni di build crafting e personalizzazione un sistema di primer e detonazione per combo con i compagni questo è ereditato uno a uno da mass effect scusate da antem e infatti si potrà diciamo costruire una combo per fare ingenti danni ai nemici cosa carina secondo me che dà quella sensazione di compagni di organizzare una combo per al massimo della soddisfazione insomma avremo quindi un open world che non sarà dispersivo sarà un po' più diciamo schiacciato a favore della trama e promette un'esperienza guidata e quindi focalizzata su quello che dovrebbe essere l'obiettivo quindi sarà un po' prendo il contratto e vado ad eseguirlo quali sono però le preoccupazioni? il sistema di combattimento potrebbe non piacere a tutti perché ne abbiamo detto prima molti dicono che assomiglia addirittura a God of War l'estetica al design dei personaggi soprattutto i cunari sono discutibili anche perché c'è questo stile un po' un po' come dire strano i personaggi hanno le teste grosse e i corpi piccoli sono non lo so non è non è il Dragon Age che conoscevamo ok? sembra un po' anche anni l'estetica con queste teste un po' più gonfie l'abbiamo visto in questo in uno dei video precedenti qui sul canale la potrebbe essere ovviamente deludente per coloro che si aspettano una narrativa magari simile a quella di Mass Effect 2 con approfondimenti sui personaggi una crew da gestire che per poi culminare su un finale penso che Mass Effect 2 sia l'esempio lampante di come fare un RPG moderno incredibile soprattutto sul finale tutte le cose che possono cambiare in base ai tuoi rapporti con la crew la gestione ovviamente della lore e dell'universo potrebbe essere impattante per il pubblico quindi bisognerebbe mantenere coerenza con la lore esistente spero che sia il caso e ovviamente c'è il rischio che si vengano apportati cambiamenti radicali a personaggi e ambientazioni da quello che abbiamo sentito dai rumor molti personaggi importanti negli episodi precedenti sono stati sidelined sono stati messi da parte come semplici consulenti perché è troppo difficile da gestire per diciamo la scarsa capacità di questo nuovo team mettiamola così ok ecco che arriviamo poi alla mancanza di codici per le recensioni EA non ha inviato codici a molti content creator come dicevo all'inizio soprattutto a quelli più critici sospetti di tentativi di manipolare le recensioni e il punteggio metacritic con il lancio e quindi una sorta di falsa speranza aspettando le recensioni degli outlet che recensiranno il gioco come il miglior gioco possibile più rappresentativo e non per te videogiocatore cattivo è l'importanza ovviamente di consultare dei recensori fidati e attendere considerazioni prima dell'acquisto quindi aspettate che il gioco sia nel giorno del 31 ottobre ok che magari arriveranno anche le recensioni meno biased quindi meno controllate quindi fate attenzione verificate le opinioni dei recensori con gusti simili ai vostri perché è importante sapere ovviamente magari da qualcuno in cui vi trovate bene capire un po' qual è la visione del gioco prima di spendere i vostri soldi perché ricordiamo che sono comunque 80 euro e nessuno ci ha mai dato una demo nessuno ci ha fatto fare un test del gioco non c'è stata una beta non c'è stata un'anteprima per un titolo così importante i titoli così importanti dovrebbero in qualche modo acquisire la fiducia del pubblico mentre quello che abbiamo ottenuto sono stati solo insulti degli sviluppatori segretezza massima e solo dei gameplay centillinati da outlet come IGN e compagnia bisogna essere consapevoli delle possibili limitazioni e punti di forza del gioco e attendere eventuali aggiornamenti e impressioni post lancio perché non è detto che il gioco non sarà rotto al lancio perché ormai siamo troppo abituati che il day one lancia e il day two arrivano pace da 48 giga quindi facciamo attenzione anche a questo la speranza è che ovviamente il gioco sia di qualità e possa rilanciare Bioware ma è speranza ripeto apprezzamento ovviamente per le pratiche commerciali positive come l'assenza dei DRM quindi probabilmente il day one sarà su Fit Girl Repack sicuro e pare non esserci microtransazioni meno male ok si impegnano a fornire aggiornamenti personali dopo aver provato il gioco quindi questo speriamo io mi auguro anche che coloro che lo possono provare sia al giorno del lancio che un periodo successivo al lancio possano dare degli aggiornamenti sull'esperienza del gioco e ovviamente ragazzi mente aperta prima di giudicare appunto il titolo per quello che offre altro sinceramente non mi sento di dire qua parliamo comunque di un titolo che probabilmente farà un casino aspettatevi di vedere un sacco di video youtube che si titoleranno Dragon Age di Velgard è un disastro la fine di B.O. e roba del genere perché ovviamente ce ne sarà da parlare ne abbiamo parlato più prima del lancio che probabilmente se ne parlerà dopo il lancio quindi vediamo un po' va bene detto questo grazie per questa chiacchiera ragazzi oggi giornata un po' un po' giù perché so stanco questi giorni so stanco delle notizie strambe e devo partire anche per Lucca quindi per coloro che magari ci sarà una Lucca salvo imprevisti ci vedremo là grazie ancora del vostro tempo se questo video vi ha tenuto compagnia lasciate un bel like e noi ci sentiamo alla prossima grazie a tutti